Ma per caso vuole sapere? Senti Anna, Anna, ti do 5 ore sono le dissi per me! Benvenuti nella prima puntata di Bibliocast, il podcast della biblioteca comunale Ciro Angelillis di Monte Sant'Angelo e oggi abbiamo l'onore di avere due ospiti con noi, l'assessore alla cultura, turismo e istruzioni di Monte Sant'Angelo, Rosa Palomba e l'addetto alla comunicazione stampa del comune di Monte Sant'Angelo, Pasquale Gatta Un applauso! Buonasera a tutti, come state? Andiamo bene, io ho fatto ieri il vaccino, però sono più rinco del solito, ecco, va bene Assessore, come stai? Bene, bene, grazie, grazie per l'invito, ci sentiamo molto onorati di essere qui, almeno questa sera Fateci domande facili, per favore Allora, chi ha inventato? Indovino con una No, allora, oggi abbiamo invitato voi anche per cogliere l'occasione di presentare Bibliostorie che è la rivista promossa dall'assessorato alla cultura e dal servizio civile mensile della biblioteca comunale e per parlare un po' anche dei progetti di servizio civile, di quello che sono, di quello che saranno e di quello che eravamo Da dove siamo partiti e dove vogliamo andare Allora dobbiamo fare un passo indietro Il comune di Monte Sant'Angelo ha attivato tre progetti di servizio civile universale Il primo è questo, Biblioteca da Vivere e tra l'altro penso che possiamo annunciare che è stato finanziato anche per il 2022 questo progetto e poi c'è il progetto dedicato al welfare quindi questo fa capo all'assessorato di Rosa Palomba quindi cultura, turismo, istruzione poi c'è il secondo che è il progetto di welfare che si chiama Raccontami che ti racconto ci sono altri quattro ragazzi dell'assessorato welfare che stanno facendo dei progetti e delle azioni dedicate agli anziani e ai disabili e poi c'è un terzo progetto che è di garanzia giovani però percorsi di legalità percorsi di legalità ci sono altri tre ragazzi e stanno facendo con noi questo percorso insieme alla presidenza del Consiglio e ai due assessorati sempre sia cultura che welfare dedicati appunto alla legalità e quindi a tutto il percorso del tavolo permanente sulla legalità che stiamo facendo dal 2018 il vostro preferito? come stanno andando questi progetti? bene io penso che abbiamo come dicevamo in qualche altra in qualche altro incontro anche con chi ha curato poi la selezione dei ragazzi dei candidati al servizio civile ci riteniamo molto soddisfatti molto soddisfatti perché all'interno di questi tre progetti ci sono undici ragazzi che si sono distinti per capacità, per professionalità, per competenze e quindi ancora una volta siamo molto contenti perché poi la città di Monte Sant'Angelo ha dato sempre ottime basi per quanto riguarda la preparazione culturale e poi professionale quindi siamo oltremodo contenti e soddisfatti quindi i ragazzi come voi stanno lavorando e proprio a stretto contatto con gli OLP e con gli uffici mettendo poi in atto in pratica delle progettazioni che hanno una ricaduta sull'intera comunità e quindi questo non fa che renderci molto contenti e soddisfatti prima di tutto secondo me dovreste presentarvi questa è la prima puntata è una puntata zero abbiamo spiegato Bibliocast Bibliocast è il terzo progetto di questo progetto è un progetto nel progetto quindi passo indietro in questo progetto stiamo cercando di valorizzare la nostra biblioteca cercando di ampliare i servizi e di migliorarli allo stesso tempo quindi di crearne di nuove e non dimenticandoci di quelli che erano già attivi e quindi tra i diversi progetti quello che forse ha un riscontro maggiore con l'utenza è quello dell'ampliamento delle orarie e infatti poi siamo riusciti anche grazie all'aiuto vostro ma anche di Giuseana responsabile del settore Giuseana Santoro siamo riusciti ad ottenere quindi questo ampliamento delle orari per garantire a tutti quanti l'apertura della biblioteca allora voglio aprire gli orari sì allora la biblioteca è aperta tutti i giorni di mattina dalle 9 alle 13 e tutti i pomeriggi da lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 17.30 ma speriamo che tutti possano conoscere la biblioteca no l'ora non è 14.30 ragazzi 15.30 a 19 insomma vuoi ricordarci gli orari di apertura della biblioteca? sì allora la biblioteca è aperta tutti i giorni la mattina dalle 9 alle 13 non è aperta tutti i giorni Anna ci vuoi ricordare dai giorni e gli orari di apertura? sì allora la biblioteca è aperta dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 invece il venerdì se la possiamo leggere vabbè non fa niente se dice la stessa e capita sì scusa ma leggiamole non lo scrivere allora ma questa cosa è bellissima allora 9.30 ma in realtà andavamo appena tagliarlo però ma per caso vuole sapere? Senti Anna ti do cinque ore su quello che ti dico per favore Anna non volevo sapere gli orari grazie allora la seconda domanda a me non interessano gli orari grazie Anna ci vuoi ricordare gli orari della biblioteca? allora la biblioteca è aperta dal lunedì al giovedì dalle 9 e dici Manuel quali sono gli orari di chiusura della biblioteca? allora gli orari di chiusura della biblioteca sono dal lunedì al giovedì dalle 13 alle 15.30 e dalle 19.30 il giorno precedente al giorno successivo alle 9 bravo e poi sabato e domenica perché sabato siamo al mercato il mercato l'abbiamo spostato l'abbiamo spostato quindi neanche il sabato il sabato aperitivo gli orari d'apertura invece Anna quali sono? allora dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 dal lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 19.30 scroscianti scroscianti per Anna eh lo so le ho studiate i video per garantire un servizio migliorato va bene allora adesso poi c'è il secondo progetto che presentiamo che è Bibliostorie allora Bibliostorie è un appuntamento mensile una rivista dove si parla diciamo di o autori o monumenti storici del nostro paese o personaggi famosi insomma è il primo è stato uno speciale su Giovanni Tancredi è stato appena pubblicato e quindi sì ci impegneremo mensilmente ad offrire poi al nostro territorio alla nostra popolazione questi contenuti avrei una domanda che ora mi sorge spontanea il primo numero parla di Giovanni Tancredi allora alla stesura del testo comunque ci abbiamo pensato noi con poi la supervisione di Pasquale le correzioni direi a basta della prologo che ringraziamo però chi è Giovanni Tancredi? chiediamo all'assessore Pasquale tra tutte le domande difficili non c'erano domande difficili perché noi lo sappiamo e voi lo sapete l'avete letto l'avete letto l'avete letto aspetta che l'ha scarico allora beh allora diciamo che sintetizzare Giovanni Tancredi in poche battute è insomma è un bel po' difficile se pensiamo che a Giovanni Tancredi è dedicato un intero museo di arti tradizioni popolari come definirlo? Giovanni Tancredi sicuramente tra l'altro io dico non lo sapete ma alla lontana saremo anche parenti con Tancredi se prendete le parentele dell'assessore Palomba sei da capire perché è stato fatto questo speciale è tutto perché la mamma di Tancredi era una Palomba esatto esatto quindi confermi confermo si è ritrovato nei documenti questa nella bibliografia bibliografia di Tancredi e quindi poi tra l'altro ecco si può tranquillamente approfondire la persona le opere di Giovanni Tancredi conoscendo andando anche facendo un viaggio nel passato all'interno del museo oppure cercando in biblioteca testi come il folklore garganico che Tancredi ci ha lasciato e tra l'altro voglio dire all'interno della settimana dell'educazione proprio perché l'intento poi è quello di raccontare alle nuove generazioni quella che è la storia della nostra della nostra città abbiamo invitato durante appunto la settimana dell'educazione che è appena si è appena conclusa i bambini più piccoli a conoscere il museo e quindi direttamente anche Giovanni Tancredi e vi dico che riportando proprio le parole delle maestre c'erano bimbi che non erano mai stati al museo quindi che hanno scoperto per la prima volta il museo sono rimasti affascinati e e ci torneranno quindi la cosa più bella ecco è proprio destare l'entusiasmo nei più piccoli per cercare per cercare quell'attaccamento alle tradizioni alla cultura alla storia attraverso poi il racconto dei nostri grandi uomini e donne del passato vai Pasquale Giovanni Tancredi interroghiamolo anche poi questo era il senso della settimana dell'educazione quando l'abbiamo pensata tre anni fa quest'anno abbiamo fatto la terza edizione abbiamo saltato il 2020 per la pandemia e il sottotitolo della settimana dell'educazione storia, cultura e tradizioni tramandata alle nuove generazioni quindi far scoprire ai ragazzi i nostri ragazzi e l'abbiamo fatto fortemente in stretta sinergia con con gli istituti scolastici con tutti e tre con le superiori i giordani e con i due comprensivi Giovanni XXIII e Tancredi Amicarelli e con loro abbiamo disegnato appunto questo percorso per i ragazzi e farli scoprire queste figure per esempio nel 2018 abbiamo fatto un convegno dedicato a Cristanziano Serricchio che a Monte Sant'Angelo purtroppo lo conoscono ancora in pochi abbiamo fatto un convegno probabilmente l'assessore ha trovato anche le risorse per per pubblicare gli atti e forse non lo sappiamo se facciamo adesso capiamo facciamo abbiamo fatto una giornata dedicata anche a Giovanni Tancredi come diceva l'assessore Giovanni Tancredi è il nostro più grande storico e dire quante cose ha fondato Giovanni Tancredi a Monte Sant'Angelo è complesso perché ha fondato esattamente però per i ragazzi più giovani che ci seguono Giovanni Tancredi ecco le belle le campane si sentiranno e Giovanni Tancredi ha fondato la prima biblioteca per esempio ha fondato la Popolare stiamo parlando del 1908? sì sì esattamente sono caduto sono caduto no per dire la prima Popolare l'ha fondata Tancredi lui ha fondato la casa dei bambini ha fondato il museo etnografico che ci raccontava l'assessore che è qui nel centro storico e ha fondato tante cose e poi il suo più grande la sua più grande produzione il folklore garganico ancora oggi è per noi per le tradizioni e per la cultura di Monte Sant'Angelo del gargano perché non è solo di Monte Sant'Angelo ci sono solo racconti di Monte Sant'Angelo è una pietra miliare della nostra storia, cultura e tradizione possiamo prendere una delle prime edizioni se non la prima esatto facciamo la magia del podcast la facciamo adesso la magia allora la magia del podcast vieni, com'era quella? lo sai cosa hai sconvolto? vieni te come si chiama quella? vieni con me, attento la testa come si chiama quella? Omar Omar, vieni con me attento alla testa attento alla testa e soprattutto attento allo schiocco di vita perché la magia del podcast consiste nello schiocco ora il libro non c'è ora il libro c'è ecco la magia del podcast questa è la prima edizione di folklore garganico proprio lei meravigliosa dovrebbe essere del 37 se non sbaglio tant'è che ha la copertina in cuoio come si usava una volta ed è autografato anche da Tancredi che ci ha incollato praticamente una sua foto in formato passaporto c'è la sua foto incollata in nel frontespizio e avrei una domanda per voi Tancredi tra l'altro in questo come potremmo sintetizzare secondo voi il folklore dentro c'è ci sono tutto veramente come si racconta il folklore c'è ti racconta le tradizioni le festività cosa succedeva in quelle festività ti racconta le singole festività ti racconta come si leggeva il dialetto come si legge il dialetto ti racconta i mestieri anche le famiglie esattamente i cognomi da chi derivavano eccetera i soprannomi è un compendio sì va bene domanda qual è il vostro libro preferito di Tancredi? questo è il folklore non avevamo detto che non ci facciano le domande difficili sì per me è il folklore sì io dico il vocabolarietto di dialetto originale non so bene il nome anche Monte Sant'Angelo monumentale che è appunto una guida scritta da Giovanni D'Artegui esatto lui immagina questo viaggio che parte da immagina questo viaggio che parte da Macchia appunto dove lui inizia a parlare delle bellezze naturali del nostro territorio e poi passa a raccontare i monumenti più importanti tra cui la basilica e poi la tomba di Rotary e appunto era una vera e propria guida per i turisti che arrivavano a Monte Sant'Angelo sì sì la prima guida di Monte Sant'Angelo la scrive Tancredi tra l'altro Tancredi fa da guida a tanti altri personaggi che poi arrivano arrivano a Monte Sant'Angelo e in molti scritti lo riprendono mi ha accompagnato Tancredi cioè quando è arrivato non mi viene il nome di Ciano sì oltre a Ciano un grandissimo poeta che ha raccontato in un suo libro dedicato alla Pasqua sul Gargano uno dei più grandi italiani adesso mi spugge completamente bravissimo Giuseppe Ungaretti racconta che che lui ha letto ha studiato sulle cose di Tancredi quindi era all'epoca cioè non era come dire lo studioso di Monte Sant'Angelo Tancredi ha portato probabilmente per la prima volta Monte Sant'Angelo in Italia cioè lui partecipava alle mostre internazionali faceva le mostre a livello nazionale Venezia portò il museo a livelli nazionali cioè per la prima volta si parlava di istituzioni museali a livello nazionale di Monte Sant'Angelo quindi le sue raccolte venivano raccontate in tutta Italia e immaginatevi a quell'epoca naturalmente quanto era difficile il racconto non c'erano i social, non c'erano i smartphone quindi era molto complesso un lavoro molto complesso vi piace viaggiare? si ecco queste domande vanno bene nella carbonara ci va la panna? la carbonara alla francese per me questo è veramente difficile perché vi piace la città in cui vivete? Monte? Assessore Assessore che pensa di Monte? da cittadina, non da Assessore racconto allora io di cinque sorelle figlie ero quella che durante l'adolescenza voleva andare via da Monte Sant'Angelo quindi durante gli anni quando frequentavo le superiori pensavo ad andare via all'università quindi non vedevo l'ora di partire di scappare tant'è vero che io mi sono iscritta all'università all'età di 17 anni perché avendo fatto le magistrali mi sono iscritta a 17 anni non ho fatto l'anno integrativo quindi ho fatto i quattro anni proprio perché avevo questo questa voglia di evadere mi andava stretto tutto oggi guardandomi indietro quell'esperienza sicuramente è servita per apprezzare di più la città in cui abito e che ho poi l'onore ecco ho avuto l'onore in questi quattro anni di rappresentare quindi sicuramente è una città che ai giovani e ragazzi purtroppo non offre tantissimo ci sono tante cose che potrebbero essere migliorate ci sono tante cose che potrebbero come dire essere inserite come proposte anche di insomma non solo lavorative perché poi è facile dire effettivamente manca il lavoro però per avviare un percorso per avviare poi posti di lavoro non è che si realizzano con uno schiocchio di dita sicuramente diciamo quello che è stato fatto durante questi quattro anni ha posto le basi noi abbiamo cominciato a lavorare molto sulla promozione perché pensiamo che Monte Sant'Angelo ha e lo sappiamo la gente che viene soprattutto i forestieri chi viene a Monte Sant'Angelo perché è richiamato dall'Arcangelo quindi la Sacra Grotta che arriva a Monte Sant'Angelo anche per visitare il rione storico il rione Iunno rimane affascinato dal territorio rimane affascinato dall'ospitalità rimane affascinato dalla moltitudine della delle delle mi sono emozionato delle bellezze delle bellezze sì certamente tutti insomma offre davvero tanto abbiamo sempre cercato insomma durante questi quattro anni di promuovere e di raccontare il nostro territorio c'è tanto altro da fare però ecco ritornando alla domanda che mi hai fatto il fatto stesso di di essere rimasta qui a Monte Sant'Angelo di avere una famiglia aver acquistato casa un lavoro sicuramente insomma è stata una scelta una scelta fondata proprio sull'attaccamento perché poi noi siamo fatti così noi gente di montagna no rimaniamo affezionati alle nostre radici e quindi io sono molto contenta di essere tant'è vero che mi sono portata qui un salentino quindi voglio dire come dice Pasquale Pasquale spesso ci ricordi quando andiamo da qualche parte noi il connubio perché a volte tra Salento e Gargano c'è rivalità c'è sfida noi abbiamo fatto il matrimonio noi abbiamo fatto il matrimonio e l'abbiamo dato il turismo c'è l'altro bisogna sposare con un salentino quindi punto esatto quindi voglio dire io sono prima c'è del Gargano sul Salento sicuramente 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 quindi contentissima di rimanere qui di rimanere qui e io spero l'augurio è che rimangano anche i miei figli così come tanti ragazzi che sono costretti per motivi di studio ad andare fuori però la speranza è che possano poi formarsi all'esterno e portare poi le loro competenze come è successo per voi qui nel nostro territorio grazie mille Assessore grazie mille Assessore davvero davvero bello e invece Pasquale? Pasquale sì Pasquale è d'accordo con Rosa cioè i ragazzi devono andare via devono studiare devono conoscere il mondo devono imparare a conoscerlo e poi dobbiamo fare di tutto tutti non possiamo delegare solo ed esclusivamente alla politica alla a chi è in comune oggi c'è Rosa Pierpaolo D'Arienzo il sindaco domani ci sarà un'altra dopo domani ci sarà ancora un'altra quindi dobbiamo occuparsene tutti della nostra comunità e della nostra città e se non facciamo questo non sarà sempre più complesso e quindi ragazzi andate in giro vedete il mondo e poi possiamo portare qui il mondo e noi il nostro piccolo abbiamo tentato di fare questo cioè siamo andati fuori a studiare abbiamo lavorato fuori abbiamo lavorato sul territorio che poi ogni tanto ci quando ci scoraggiamo ci diciamo perché abbiamo comprato una casa qui però l'abbiamo fatto perché è la città più bella del mondo probabilmente è una città molto difficile come lo sono le città di montagna come lo sono le città piccole i piccoli centri è una città dove c'è una dove c'è ancora una fetta di persone che esprime ancora molto odio sociale e questo è quello che ammazza un'intera comunità e perché c'è gente che è lavora in un senso e c'è altra che lavora nel lato opposto e questo per questo si fa molta fatica ad uscire fuori e a dare un'immagine di Monte Sant'Angelo di un certo modo io mi occupo della comunicazione del comune mi occupo della promozione e Monte Sant'Angelo per molto tempo è stata purtroppo per noi la città della mafia la culla della mafia garganica è passato questo messaggio per 30 anni ok? noi abbiamo fatto di tutto anche dal punto comunicativo soprattutto abbiamo fatto di tutto per far passare un altro messaggio Monte Sant'Angelo la città dei due citi unesco Monte Sant'Angelo le attività culturali la la progettazione la riqualificazione delle aree dei lavori che sono stati fatti in questi anni c'è ancora gente oggi che dice che non dobbiamo parlare di legalità in questi giorni a Monte Sant'Angelo c'è qualcuno che dice che noi non dobbiamo parlare di legalità perché ne parliamo tutti i giorni noi siamo una città sciolta per mafia e dobbiamo imparare a a chiamare le cose con il loro nome questa roba è fondamentale ragazzi che siete come ci diciamo sempre non siete il futuro voi siete il presente e non possiamo nascondere ancora queste cose perché l'abbiamo fatto per molti molti anni per quando vai dal dottore il dottore ti fa fare prima le analisi e poi ti dice che malattia hai e poi c'è la cura se noi non conosciamo quale malattia abbiamo non troveremo mai la cura allora a tutte queste persone che dicono che noi non dobbiamo parlare di legalità gli rispondiamo che noi continueremo a parlare ancora di più di legalità a Montesantangelo perché era la città della mafia probabilmente oggi è la città dell'antimafia ed è la città dei due siti UNESCO e questa cosa qua la dobbiamo fare tutti insieme non Rosa Palomba Pierpaolo D'Arienzo o Michele o l'aggiunto l'amministrazione la dobbiamo fare tutti perché fuori voi dovete capire che Montesantangelo fuori è la città di San Michele Arcangelo è la città della bellezza è la città noi dobbiamo raccontare questo ma dobbiamo come dire internamente dobbiamo raccontarci anche quali sono i nostri problemi perché se non sappiamo quali sono i nostri problemi se non sappiamo qual è la nostra il nostro il nostro male non troveremo mai la cura e chiudo dicendo che a proposito di questo che ecco questa cosa mi fa arrabbiare molto a me e scusate non è camomilla non è camomilla per favore diciamo non possiamo dare la se il dottore ci dice che abbiamo il cancro la colpa non è il dottore ok la colpa è il cancro quindi sta roba deve essere chiara e nonostante tutto questo noi abbiamo deciso di vivere a Monsanto un applauso per il coraggio bravo per vivere a Monsanto di avere coraggio ma anche è bello dai io proprio alla fine dico cioè noi che abbiamo vissuto fuori lo sappiamo come funziona anche fuori cioè se vuoi andare al cinema a Milano per andare al cinema ci vuole un'ora qui in realtà per andare al cinema ci sta a San Giovanni Rotondo e ci metti meno di un'ora se vuoi andare a teatro se vuoi andare a teatro a Milano ci metti più di un'ora perché le spostamenti sono giganti da qui ci metti puoi andare a Foggia che c'è il teatro giordano che è grandissimo oppure a Manfredonia oppure se scendi ancora di più se corri ci metti anche meno se corri ci metti anche meno o il Petruzzale di Bari dove vedi il spettacolo di grande cioè come dire da vista culturale adesso diciamo però vuoi un ristorante stellato e lo ce l'hai poco un poco cioè tutto vicino il Gargano è un macro territorio come lo è cioè una grande metropoli quindi non immaginiamo se smettiamo di immaginare le singole città di isolarci bravo di isolarci tra di noi cioè noi siamo a Monte Sant'Antonio voi siete mattinati quelle altre sono Manfredonia e quelle altre sono San Giovanni Rotondo se smettiamo di fare questo e quindi di integrarci noi leggeremo le nostre città come macro territori e leggeremo le città come come Bari la cooperazione è stata la forza del Nord Italia bravissimo cioè come Bari se vai da Monte Sant'Angelo a San Giovanni Rotondo è come se stai attraversando un quartiere di una grande città per noi sono due città diverse per le altre no quindi la qualità della vita probabilmente ce lo dobbiamo dire qui è estremamente elevata rispetto alle altre parti vero perché qui anche dal Salerno saluto 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 anche il marito non guardare Claudio non guardare questa trasmissione però ce lo dobbiamo dire ragazzi la qualità della vita qui è molto più alta del Nord cioè nel Nord si vive dal lunedì al venerdì per lavorare esci la mattina alle sei e ritorni alle nove della sera qui non si lavora e qui non si lavora ma qui non si lavora ed è il problema non è un problema è il problema ma non è il problema di Monte Sant'Angelo e il problema probabilmente del sud Italia dell'Italia come il problema demografico come il problema demografico cioè bisogna lavorare molto per... si sente molto nella piccola comunità voglio dire si parla a livello nazionale del problema proprio delle nascite è logico che è rapportato anche purtroppo anche Monte Sant'Angelo ha avuto un calo importante però diciamo ecco per chiudere poi probabilmente si esatto ci sono un sacco di cose un sacco di cose negative da migliorare e da... su cui lavorare ma secondo me le cose positive le cose belle le cose su cui poter lavorare sul futuro le cose su cui migliorare le cose per attrarre persone noi stiamo facendo negli anni abbiamo fatto una campagna di comunicazione di promozione forte per comunicare alla città dei due siti unesco e devo dire che i risultati sono stati grandi cioè il pre pandemia noi crescevamo di più di 3.000 per notti 3.000 per notti sono economia che abbiamo con i soldi investiti dal comune sono soldi che abbiamo lasciato sul territorio sono soldi che abbiamo lasciato alle attività commerciali cioè la gente se viene a Monte Sant'Angelo deve dormire deve mangiare deve prendere un caffè deve comprare un giornale quindi è economia che lasciamo sul territorio e quella probabilmente l'industria turistica è quello su cui Monte Sant'Angelo può puntare ma nel tempo nel futuro noi lo abbiamo visto in questo modo naturalmente c'è molto da migliorare c'è molto da fare c'è molto da lavorare però sono percorsi lunghi sbravisti sono progetti a medio e lungo termine che non si risolvono con due anni tre anni quattro anni poi siamo stati due anni fermi per la pandemia e quindi abbiamo dobbiamo ripassare dal via per ritirare i 20 euro e dobbiamo tornare vabbè del resto proprio per quello che ci riguarda la cultura assume diciamo un significato importante perché comunque è uno strumento di lotta l'illegalità bravissimo è uno strumento di lotta perché comunque ti educa al rispetto al pensiero critico e soprattutto un giovane o comunque chiunque riesce a mettere a frutto le proprie capacità poi in qualcosa di positivo in qualcosa di buono e appunto è molto fondamentale la cultura bravissimo bravissimo noi abbiamo fatto quello noi abbiamo detto la gente le insegnasse la bellezza esatto siamo partiti dalla frase da quella frase per lavorare molto sulla cultura molto sul lavoro dell'antimafia sociale col tavolo permanente sulla legalità con tutte le attività che abbiamo fatto con i vari personaggi per ultimo abbiamo fatto la carta per l'impegno della legalità che è stata approvata all'inizio del mese dal Consiglio Comunale e lo abbiamo fatto col tavolo permanente sulla legalità dove abbiamo messo insieme parrocchie, associazioni istituzioni scolastiche ed enti tutti insieme seduti da un tavolo a lavorare insieme questa cosa non era mai successa e quindi è fondamentale perché siamo partiti dal fatto che bisogna organizzare la comunità la comunità la criminalità organizzata è forte diceva Don Ciotti ha detto a Monte Sant'Angelo tanti anni fa nel 2013 o 14 la criminalità organizzata è forte perché è organizzata quindi noi siamo partiti ad organizzare la comunità infatti il claim lo slogan del tavolo permanente sulla legalità è Monte Sant'Angelo comunità organizzata con tutte le agenzie educative ripeto le associazioni le parrocchie le scuole fondamentali abbiamo fatto un percorso abbiamo parlato di molti temi dalla violenza contro le donne al cyberbullismo abbiamo incontrato Maria Falcone Pietro Grasso i ragazzi hanno fatto le interviste insieme abbiamo scritto la carta per l'impegno che è lì e da lì si riparte per costruire ancora insieme un nuovo percorso grazie mille davvero davvero grazie grazie a voi grazie all'assessore Rosa Palomba e all'addetto stampa e comunicazione Pasquale Gatta per essere stati qui con noi e auguriamo loro un buon Natale ovviamente auguri non sappiamo quando in realtà anche a voi che senti quelli che ci ascoltano avevamo augurato un buon Natale dato che possa essere 27 esattamente allora sì buona buon fine 2021 buon anno adesso capiremo quando andrai in onda e poi dovremmo fare più finali per te buon Natale auguri buon Natale a tutti buona Pasqua a tutti buon Natale io volevo solo ricordare che per chiunque abbia bisogno di conoscere gli orari della biblioteca per chiunque non chiede tanto di andare su la biblioteca il sito istituzionale sicuro della biblioteca per quelli di chiusura per quelli di chiusura per quelli di chiusura per quelli di chiusura c'è Mario di questi temi perché la cultura la 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 è vista un po' come 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 tema come dire pesante e invece voi lo state lo state rendendo come dire leggero lo stiamo cercando di raccontare a più persone possibile attraverso vari mezzi e l'abbiamo fatto con bibliostoria lo facciamo con bibliocast lo faremo con altri progetti con i social seguiteci quindi sui canali social instagram facebook biblioteca montesantangelo e quindi continuate a seguirci Pasquale non dimenticare racconti di autore è vero bravo appuntamento mensile dimenticavo qualcuno non sapevo cosa il prossimo autore è proprio Pasquale esattamente il suo nuovo libro che presenteremo prossimamente che è 100 motivi per la quale il Gargano deve al Salento ci saremo io e il marito di noi va bene grazie a tutti grazie ragazzi arrivederci a presto